Nella puntata odierna di Forum, condotta da Barbara Palombelli su Canale 5, si è verificata una situazione estremamente tesa che ha quasi sfociato in una rissa indiretta. Cosa è accaduto di così sorprendente? Durante la trasmissione, una donna è intervenuta per chiedere al marito di sostenere economicamente il figlio in difficoltà a causa della droga. Tuttavia, il marito ha rifiutato categoricamente. Quando il figlio tossicodipendente è entrato in studio, la situazione è precipitata. Il ragazzo si è scagliato contro il padre, provocando un acceso confronto che ha richiesto l'intervento immediato del personale tecnico per evitare il peggio. Barbara Palombelli ha cercato di calmare gli animi, invitando il contendente ad abbassare i toni e chiedendo al reparto sartoriale di fornire una camicia al partecipante, che si era presentato in canottiera. Nonostante gli sforzi della conduttrice, la tensione è rimasta alta, con il contendente che ha continuato ad attaccare e minacciare di abbandonare lo studio. La situazione è stata definita orribile da un ospite presente in trasmissione, mentre Barbara Palombelli ha rischiato di dover interrompere la diretta. Fortunatamente, la conduttrice è riuscita a gestire la complicata situazione e a portare la puntata a termine.